Non colpevole, il dramma del genocidio armeno. Adattamento radiofonico del testo di Adriano Marcolini. Voci recitanti di Adriano Marcolini, Manuel Bendoni, Silvia Scarabello. Berlino, primo giugno 1921. La prima guerra mondiale è finita qualche anno prima e davanti alla corte d'assise del terzo tribunale regionale si celebra un processo per omicidio. La vittima è Talat Pasha, ex ministro ottomano degli interni e già condannato a morte dalla corte marziale post bellica di Costantinopoli. L'omicida è un giovane armeno. È stato arrestato subito dopo aver sparato ed è reo confesso. Ma il processo apparentemente semplice assume caratteri non prevedibili per la sorprendente conclusione del dibattimento dovuta alla giuria popolare che come quasi tutto il popolo tedesco ignorava fino a quel momento i fatti accaduti in Turchia, nazione alleata della Germania durante la guerra. La prima guerra mondiale è un giovane armeno. Lo sferagliare del tram che lo portava davanti al tribunale impediva a Karl di leggere i versi. Aveva acquistato quel piccolo libro la sera precedente in una libreria vicino a casa, Poesie Armene, la prima edizione in tedesco. Quel mattino Karl non era al suo posto di lavoro alla Siemens. Il tribunale regionale lo aveva invitato a far parte di una giuria popolare. Il processo aveva a che fare con l'Armenia, Turchia, quell'impero ottomano che era stato alleato della Germania e ne aveva condiviso la sconfitta. Karl aveva infilato in tasca il libretto pensando di leggere qualche verso durante una pausa del processo. Ma i versi di quelle poesie assumevano significati nuovi, man mano che le testimonianze svelavano, su invito del giudice, fatti avvenuti sei anni prima e conosciuti da pochi. Lei si chiamava Cristine. Cristine, come mia madre, vivevamo a Yerzurum allora, Anatolia orientale. Non sapevamo nulla della notte spaventosa del 24 aprile. Le famiglie armene erano più numerose di quelle turche a Yerzurum, ma stavamo in pace fino a quella mattina di giugno. Guardie e funzionari di pulizia ci dissero che avremmo dovuto lasciare la città a tutti il giorno dopo. In realtà le famiglie turche rimasero in paese. Quella era diventata zona di guerra e la popolazione civile veniva allontanata per essere protetta. Così ci dissero. Saremmo ritornati a pericolo cessato. Raccomandavano di portare con noi denaro, gioielli e altri oggetti preziosi per evitare che le case disabitate venissero svaliggiate dai ladri. Sono il dottor Lepsius, signora Tersibashan. Il tribunale mi ha convocato perché conosco bene il vostro popolo. Ora le chiedo, può descrivere alla giuria che cosa successe il giorno in cui doveste abbandonare le vostre case? Quel mattino di giugno tutti gli armeni del paese vennero fatti uscire dalle loro case. Uscimo anche noi, i miei fratelli, mio padre. Io tenevo mio figlio in braccio. Aveva pochi mesi. Ci spinsero sulla strada e ci radunarono in un gruppo insieme ad altre famiglie. In un gruppo potevano esserci anche centinaia di persone. Mentre lasciavamo la casa, gli zaptie, i gendarmi, portarono via tutti i maschi e giovani sopra i dodici anni. Non ci dissero perché. Anche uno dei miei fratelli aveva trent'anni. Attaccamo al carro i due buoi che avevamo nella stalla e ci inserimo nella colonna che si stava formando. Avevamo i bambini con noi. Volevamo portare via il più possibile. Dei polli. Cibo sufficiente per arrivare almeno a Yerzinkan. Perché ci avevano detto che saremmo passati di là e conoscevamo la gente del paese. Signora Terzibashan, Cristine. Conosco il forte legame fra gli armeni e la terra. Quella era la stagione del raccolto, vero? Sì. E qualcuno piangeva mentre ci allontanavamo dai nostri campi. Nella colonna che si era formata giungevano altri gruppi di persone. Donne, vecchi, bambini. Pochi uomini. Mentre passavamo davanti alla gendarmeria ci fecero fermare. Fecero uscire i giovani che erano stati arrestati poche ore prima. E li fucilarono lì, davanti a noi. Noi eravamo atterriti, straziati. Ma non potevamo fare niente. Nemmeno fuggire da quell'orrore. Perché ci minacciavano con le armi. Poi gettarono i corpi in una grande bucca, poco distante. Preparata apposta. Mentre ci allontanavamo dal paese, arrivò un gruppo di donne. Non erano armene. Sembrava che aspettassero la nostra partenza. Forzavano le porte. Entravano nelle case abbandonate. E a noi era impedito di uscire dalla fila. Ma nessuno di voi si ribellò a questo trattamento. Nessuno reagì. Quasi tutti i nostri uomini erano stati uccisi. E poi le guardie ci avevano sequestrato tutto. Coltelli, ombrelli. Tutto ciò che avrebbe potuto servire come arma. Frugavano tutti, senza ritegno. Anche noi donne. Cercavano denaro, gioielli. Quello che ci avevano detto di portare con noi. Marciavamo in fila. Ore di marcia. Si era alzata una nube di polvere per tutta quella gente che camminava e si depositava sui vestiti. La respiravamo. Due gendarmi staccarono i nostri buoi dal carro e li portarono via. Dovemmo in fretta prendere dal carro quello che potevamo tenere addosso. e proseguire a piedi. Baiburt fu la tappa successiva. Sangue e polvere. A lato della strada principale una fila di teste mozzate. I cadaveri ammassati in buche poco profonde. Gli ezaptieci incalzavano e fumo costretti a proseguire. E così raggiungemo Jersinkan. I bambini piangevano perché avevano mali ai piedi. Ah, ci avevano promesso un alloggio. Ma non era vero. A Jersinkan c'era un altro gruppo di persone, numeroso. Ci unirono a loro e ci fecero proseguire. Durante la marcia chi vi scortava vi diede del cibo. Non potevate affrontare una marcia così lunga, faticosa senza mangiare e bere. Non ci aiutarono nemmeno a far mangiare i nostri bambini. Avevamo solo quanto eravamo riusciti a portare da casa ma niente acqua. Arrivamo sulla riva di un fiume. Eravamo assetati ma ci impedivano di avvicinarci alla riva per bere. Respingevano con i calci dei fucili chi tentava di farlo. Presero dal gruppo alcuni uomini e ragazzi tra quelli che erano rimasti. Uno dei miei fratelli quello più piccolo si nascose dietro le donne. Con dei panni riuscì a vestirlo da femmina così non lo presero. Ma gli altri li legavano insieme a due a due le mani legate li spingevano verso la riva del fiume. La corrente era forte nessuno riuscì a salvarsi. Deve essere stato terribile non poter intervenire. Noi piangevamo urlavamo le guardie gridavano per farci stare zitti. Cominciò a far buio e ci fermammo. Nessuno riusciva a stare in piedi eravamo stremati e le guardie si misero a girare intorno. Cercavano le donne e le ragazze più belle quelle che non volevano venivano trascinate via oppure uccise a colpi di baionetta. C'era una donna incinta tra di noi. Due gendarmi scommisero tra loro chi avrebbe indovinato il sesso del nascituro. Poi con le baionette trafissero il ventre della donna per vedere chi di loro aveva vinto. Uno zaptie mi afferrò per i capelli. voleva trascinarmi via. Io avevo il mio bambino in braccio. Mi dibattevo cercavo di scappare. Allora lui afferrò il mio bambino e lo scagliò lontano. Costantinopoli ufficio di Enver Pasha ministro della guerra un pomeriggio di maggio 1915 E tu non ci credevi Mehmet Tirar fuori dal carcere i peggiori criminali e rifornirli di armi ha trasformato degli assassini in militari coscienziosi. Poter violentare far manbassa di denaro e gioielli senza che nessuno abbia da ridire quale migliore motivazione oltre al fatto che abbiamo promesso di cancellare i loro debiti con la giustizia. Basta solo stargli lontano la pulizia personale non è una qualità in cui eccellono. Ah e non preoccuparti nessuno dei nostri nemici se ne accorgerà. Abbiamo dato a tutti una divisa li abbiamo vestiti da zaptie gendarmi della forza speciale. Suona anche bene e i tedeschi se ne saranno buoni buoni se vogliono avere il nostro appoggio in questa guerra. Notte ideale quella del 24 aprile Costantinopoli era immersa nel sonno all'alba hanno reagito in pochi niente violenza porgi l'altra guancia loro sono così i poeti e gli scrittori sono avvezzi a usare carta e penna non fucili e coltelli e comunque più pericolosi dei soldati armati le loro armi sono ciò che scrivono che scrivevano fatti fuori quasi tutti è vero nei distretti alcuni bali e caimacan non approvano il piano ma sono funzionari amministrativi possiamo trasferirli sostituirli eliminarli se serve e nei villaggi coinvolgeremo i mullah la guerra santa accende gli animi e adesso che la testa del serpente è stata tagliata sarà più semplice eliminare il resto del corpo adesso tocca a te talat è stato arrestato quel deputato che diceva a tutti che lui era amico del ministro brutta sorpresa per il deputato Berlino aula del tribunale 2 giugno 1921 con una filastrocca la nonna svegliava Sogomon ogni mattina era il suo nipote preferito yogurt miele una bella fetta di dolce speziato questo la nonna gli preparava tutti i giorni e le albicocche quando era stagione soprattutto ai bambini le davano le albicocche proteggono dalle malattie tra Sogomon e la nonna c'era da sempre un rapporto speciale un pomeriggio lui aveva solo 5 anni erano in giardino sotto il melograno e ad un tratto la nonna mostrandogli il frutto che teneva in mano gli aveva detto ricorda Sogomon la melagrana è come l'anima invincibile dell'Armenia la polpa tenera dentro e la buccia resistente fuori non sanno qual è la nostra forza Sogomon aveva capito il significato di quella frase pochi anni dopo adesso lui è un uomo e si trova rinchiuso tra quattro pareti sporche nomi date preghiere maledizioni sono incise su quei muri in alto una piccola finestra si vede il cielo dietro le sbarre mai il sole è lui l'imputato sul quale la giuria dovrà esprimersi molti berlinesi quel mattino erano passati per Ardenbergstrasse avevano visto e adesso vogliono sapere che cosa passa per la mente di un giovane che uccide una persona sotto gli occhi di tutti e si lascia arrestare senza opporre resistenza e davanti al giudice e alla giuria Sogomon ricostruisce la sua vita passata vivevamo a Yerzinkan Anatolia orientale famiglie turche e famiglie armene la nostra era conosciuta stimata molti amici anche turchi serate piacevoli si mangiava sempre qualcosa di buono e molti piatti turchi o armeni erano gli stessi li chiamavamo con nomi diversi mio padre commerciava tessuti preziosi aveva la passione del gioco delle carte e come avversario spesso c'era un ufficiale dell'esercito ottomano fumavano gli stessi tipi di tabacco ogni tanto l'ufficiale veniva fatto vincere un'amicizia così valeva bene una perdita al gioco una volta avevano arrestato mio padre per motivi futili ma destinato a passare brutte ore in carcere ma era stato liberato quasi subito per intervento di quell'ufficiale con gli amici turchi le solite schermaglie un armeno che ruba una mela è un criminale mentre se lo fa un turco quello è solo uno sbadato i soliti scherzi tra amici ma io avevo imprese nella memoria le parole di un vecchio che ricordava atti di crudeltà verso gli armeni ai tempi del sultano rosso e quando avevo chiesto spiegazioni ai miei genitori avevo ricevuto risposte vaghe bisognava fidarsi del nuovo governo giustizia e rispetto per tutti aveva promesso turchi i kurdi armeni anzi la milieta armena era considerata la più fedele tra i gruppi che popolavano l'impero avevamo una scuola nostra a Yerzinkan e celebravamo in chiesa la messa e gli altri riti religiosi solo la nonna quella volta mi aveva guardato a lungo negli occhi ed era uscita dalla stanza senza dire nulla le testimonianze sono tessere di un unico mosaico riempono l'aula ne superano i confini e raggiungono anche chi non sapeva o chi fingeva di non sapere come aprire una porta che si spalanca sul deserto Aula del Tribunale 2 giugno 1921 seconda deposizione di Cristine il deserto ha perdita d'occhio rocce pietre rari arbusti fermi accampati senza riparo senza acqua senza nulla da mangiare al limite della sopravvivenza il sole stava tramontando e tutti cercavamo di stare vicini gli uni agli altri per difenderci dal freddo della notte sola il mio bambino non più con me se la mente funziona ti rendi conto che non sei più madre e soffri l'indicibile ma se il tuo corpo è allo stremo se non sai distinguere più la realtà dall'incubo la tua mente si impietosisce non pensi più soffri meno le siamo veramente grati signora Tersibascian per il coraggio che dimostra nel descrivere quella tragedia ora la prego vuole dire alla giuria come fece a sopravvivere mi mescolai ad un gruppo di persone approfittando del cambio di guardia mi allontanai quasi strisciando e poi cercai di correre le gambe non mi reggevano non ricordo per quanto tempo ad un certo punto intravvi di una casa a poca distanza non era ancora completamente buio una famiglia di contadini turchi ma mi accolsero quella gente mi sfamò e potei riposare ma li avrebbero fucilati se mi avessero trovato lì e mi pregarono di andarmene al più presto il giorno dopo non c'era anima viva intorno ero convinta di essere sfuggita agli zaptie ma all'improvviso un rumore di zoccoli alle mie spalle un ufficiale a cavallo urlava lasciabbo la sguainata pensavo che mi uccidesse ma lui fermò il cavallo e senza scendere mi costrinse ad inginocchiarmi a gridare viva talat pascià all'alo protegga perché mi permette di rimanere in vita poi se ne andò dopo aver indicato alle guardie dove ero non mi punirono per la fuga ma dovetti riprendere il cammino continuavo a spingermi avanti come un'automa una signora anziana davanti a me mise un piede in fallo e cadde mi fermai un momento per aiutarla ma uno zaptie mi costrinse a proseguire non dimenticherò lo sguardo di quella signora mentre la colonna si allontanava ben presto costeggiamo un'altura e lungo il fianco della collina apparve un'orda di gente che gridava c'è te briganti curdi bastoni coltelli asce ci derubarono di tutto quello che ci era rimasto strappavano alle ragazze gli orecchini dai lobi delle orecchie afferravano le più belle le più grandi cercavano di nascondersi si imbrattavano di fango il viso si sfregiavano per non essere notate ci spaventavano gridando che le più attraenti sarebbero state vendute come schiave o rinchiuse negli harem passammo vicino al paese di samsek conoscevo delle persone in quel villaggio loro non erano stati aizzati dai mullah turchi e così approfittando del fatto che gli zapti erano pochi mi aiutarono a uscire dal gruppo e dopo che successe dopo lei era sola in pericolo di essere nuovamente ripresa avrebbero potuto ucciderla quelle persone fecero finta che io fossi dei loro mi venne sussurrata all'orecchio la professione di fede islamica dio è unico e maometto è il suo profeta e dovetti ripeterla mi tagliarono un ciuffo di capelli e mi assegnarono un nome turco per questo sono riuscita a raggiungere Svas dove c'era una missione tedesca io vivo io vivo con un peso sull'anima che non mi fa dormire a volte mi sveglio e mi sembra di soffocare perché è stato concesso a me di rimanere in vita perché a me e non al mio bambino fine della prima puntata non colpevole il dramma del genocidio armeno adattamento radiofonico del testo di Adriano Marcolini voci recitanti di Adriano Marcolini Manuel Bendoni Silvia Scarabello sull'anima 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 sull'anima